La terza dose, professore, perché appunto, le dicevo, alcuni mi scrivono che vorrebbero vaccinarsi e non ci riescono, dipende molto alle regioni, in alcune regioni è aperto agli over 60, in altro come Lombardia, si doveva collegare con noi una signora che però è sparita nei meandri della mia regia, doveva dirci proprio questo, una lettera ci ha mandato molto accorata, lei ha 79 anni, ma non riesce a prenotarsi il vaccino. In più, c'è tutta la ipotesi di una corsia referenziale per i professori che sono stati vaccinati, come lei ben ricorderà, per primi, e secondo Sileri bisogna vaccinare subito i professori, quindi potrebbe arrivare al paradosso che ci sono persone di 75 anni che non riescono a farsi la terza dose, mentre professori di 33 che se la fanno. E ancora c'è il tema Johnson & Johnson, mi fa un quadro della situazione e mi chiarisce un po' l'idea? Guardi, io credo che stiamo commettendo il medesimo errore che abbiamo commesso purtroppo a febbraio-marzo, la psicosi da terza dose e secondo me tutte queste dichiarazioni fatte purtroppo da chi non è un esperto, perché se no non farebbero dichiarazioni di questo tipo, stanno creando confusione. Ho sentito dire da qualcuno che il vaccino di Johnson & Johnson dopo due mesi non hai più difese, ma dove l'hanno lette queste cose? Eh ma no, ma non è un esperto, perché mi ha detto Crisanti a me, l'ha detto da me il professor Crisanti. Ma sarà un esperto, ma bisogna che legga, perché se uno non legge e non studia non può dire queste cose, è un'affermazione gravissima, perché va contro evidentemente ciò che la letteratura ci dice, ovvero la risposta col vaccino di Johnson & Johnson dura mediamente con una risposta robusta 6-8 mesi. C'è bisogno certamente di fare una dose di richiamo rispetto a quello che sapevamo inizialmente, ma non che dopo due mesi uno ha più anticorpi. Sai la quantità di gente che mi ha telefonato dicendo che ha sentito quelle affermazioni e si ritiene scoperta? Anche a me. Non si possono dare informazioni del genere, è gravissimo, è criminale dare delle informazioni del genere. Io dissento pesantemente, allora dire a uno che ha fatto il vaccino di Johnson & Johnson che dopo 6-8 mesi deve fare una dose di richiamo, che farà o con Johnson & Johnson o con un vaccino mRNA Pfizer e Moderna e dare un'informazione corretta. Allora, rimaniamo un attimo al punto, perché ne posso dire dal mio punto di vista che in questo studio il professor Crisanti prima e poi il professor Walter Ricciardi, che come lei sa è consigliere del ministro della salute, mi hanno detto che esiste il problema Johnson & Johnson, che va autorizzato prima perché dura meno. Due mesi, ha detto Crisanti e praticamente Walter Ricciardi ha confermato questa cosa. Inutile dirle che anche io sono stata subissata da richieste di vaccinati Johnson & Johnson, che dico perché non mi chiamano subito, naturalmente perché si dice una cosa del genere e poi le devi chiamare. Lei mi sta dicendo che non è corretta, anzi addirittura mi ha detto che è criminale, cioè non è vero chi è vaccinato con Johnson & Johnson. Io vi ho detto che il fatto che decrementino gli anticorpi, cioè che ci sia dopo due mesi una discesa, tanto non vuol dire che li perdi tutti dopo due mesi. E comunque noi abbiamo due gradi di difesa, uno che è l'immunità cosiddetta da IgG, che è quella che misuriamo con la IgG e poi abbiamo l'immunità che è quella cellula immediata, che sono le cosiddette cellule memoria. Allora evitiamo di dare informazioni che fanno venire alla gente una psicosi, ovvero noi dobbiamo concentrarci sulle terze dosi alle persone fragili, cioè alle persone anziane che hanno più di 60-65 anni, a chi ha delle malattie sottostanti, a chi lavora negli ospedali o nel sistema sanitario. Quindi la forza preferenziale per i docenti è un errore. E' un errore che stiamo commettendo, perché l'insegnante di 25 anni è probabile che possa anche fare una dose di richiamo un anno, come l'insegnante di 40 anni. Diverso la persona di 78 anni deve essere immediatamente vaccinata con la terza dose, se no siamo di nuovo con l'errore che abbiamo commesso nella prima fase. E purtroppo è rare umanum est, perseverare è stolto. Esatto. Cioè spero che non ci voglia un nuovo preso di posizione di figliolo anche per quanto riguarda le terze dosi. Allora scusate, proviamo a rimettere in fila le cose. Crisanti mi sa che l'abbiamo trovato, glielo faccio risentire. In più, sta dicendo Bassetti, all'inizio facevo un errore a passare. No ma non me lo faccia sentire. Non, no, guardi, ha detto, mi scusi se dico, ma quella è una cosa dal punto di vista scientifico. Io rappresento, come lui, la comunità scientifica. Non si dicono quelle cose in televisione. È un errore grave, che se l'ho sentito, che l'ha detto, è un errore che non andava commesso. Non puoi dire alla gente che dopo due mesi non ha più anticorpi, perché non è così. Perché ci sarà qualcuno che dopo due mesi decrementa, ma c'è qualcuno che dopo due mesi ce n'è ancora. E noi non possiamo andare a dire in televisione queste cose. Commettiamo un errore grave. Allora, purtroppo questo è un grave problema, lo dico io questo, perché naturalmente, come l'ha detto lei la prima, che mentre all'inizio i pareri erano molto discordanti, ma ci stava, abbiamo detto cento volte, ci cercava di capire cosa stava accadendo. A questo punto io mi aspetto invece che la comunità scientifica sia molto univoca nei suoi messaggi, perché ogni messaggio dato da un medico autorevole cambia la percezione delle persone e crea confusione. Comunque è una cosa importante, sta dicendo Bassetti. Vi ricordate all'inizio, professori, prima, cioè tutto scaglionato per categorie. Dice Bassetti, errore, l'abbiamo fatto quell'errore, era meglio fare fin dall'inizio per fasce d'età, cosa che peraltro vedessero da Gheffilluolo a un certo punto. Ce l'abbiamo?